Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con i 90 secondi. Per la prima volta dopo dieci anni la Juventus chiude la stagione senza neanche un trofeo. Non era accaduto con Sarri nel 2019-2020, l'anno della pandemia, nella quale Sarri pur con tante difficoltà conquistò uno scudetto. Non era successo l'anno scorso con Pirlo che a fine stagione si era giudicato Coppa Italia e Supercoppa. È successo quest'anno con Allegri eppure l'estate scorsa tutti i quotidiani sportivi e anche i bookmakers accreditavano la Juventus come la grande favorita per la corsa al titolo. Si può parlare quindi ragionevolmente di stagione fallimentare? Ragionevolmente sì anche perché la società è intervenuta con un importante investimento sul mercato di gennaio, più di 100 milioni spesi per Zaccaria e soprattutto Vlaovic. Il vero problema della Juventus è che mentre Allegri è sicuramente un ottimo gestore non è sicuramente un organizzatore di gioco e un allenatore di campo che faccia crescere i giocatori sul piano della organizzazione di gioco. Il suo calcio è abbastanza primitivo, difese contro piede e anche nella finale contro l'Inter di Coppa Italia ha pagato lo scotto delle sue paure quando in vantaggio per 2-1 invece di continuare ad attaccare ha abbassato la linea della squadra dentro l'area di rigore inserendo Bonucci per un 5-2-3 che ha lasciato campo e spazi alla squadra nera azzurra. Insomma quello della Juventus è un fallimento annunciato, oggi si è chiuso un ciclo che era cominciato con Conte, non a caso è un ciclo che è durato moltissimo proprio perché Conte ha insegnato a questa squadra, soprattutto ai difensori, la fase difensiva in maniera impeccabile. Io ricordo personalmente che nell'estate del 2011 proprio Capitan Chiellini telefonava al suo procuratore, il figlio di Marcello Lippi, per chiedergli di cambiare squadra dopo una stagione deludentissima con Del Neri. La Juventus quindi per ripartire, credo non possa ripartire da Allegri, ma debba ritrovare un allenatore di campo che dia a questa squadra un'organizzazione di gioco, che faccia crescere i giovani e soprattutto che abbia una mentalità europea per cercare finalmente di conquistare quella Coppa che nella bacheca della grande vecchia signora del calcio italiano manca da ben 26 anni. Alla prossima!